Si aprono i battenti dopo un mese di chiusura, nello specifico niente più chiusure? Sì, buongiorno, oggi ufficialmente apriamo la zona arancione e dopo tanti vari colori e dopo il rosso confermato iniziamo a lavorare, riapriamo la nostra attività. I rosso di attività sono abbastanza controllati perché vi siete attrezzati dal primo lockdown, uno cliente arriva da lei, intanto sul pronotazione. Sì, noi lavoriamo con gli appuntamenti one to one e quindi non abbiamo assembramenti nei nostri saloni, ma lavoriamo ad appuntamento col singolo cliente e iniziamo con già l'entrata, iniziano a mettere i calzari per le scarpe, e poi comunque Giussi si occupa anche insieme a me della parte estetica, collabora insieme a me e quindi misuriamo la temperatura al cliente, lì geniziamo le mani all'entrata e poi comunque vanno all'interno delle cabine, quindi l'attesa non c'è, infatti come vede c'è una cliente che sta facendo la postazione unghie, buongiorno Antonella, è lì con Martina che si occupa delle unghie. Quindi io spero che questa maglietta rossa, con la collega Rosalba Pizzi, che comunque rimanga appesa qui, però se ce ne sarà bisogno, noi la metteremo per riaprire le nostre attività commerciali. Quindi ogni polotto che entra una cliente non ha sanificato la postazione? Sì, sì, certamente, sanifichiamo la postazione, comunque la cliente quando arriva da noi si sente sicura.